Ciao a tutti, qua è Seven e benvenuti a un nuovo video. Oggi giocherò in formato Wanderer con il mio Borneel de Mosasauro contro una scena Zat Contra. Detto questo, andiamo a vedere come sono andate le partite. Ok, adesso che è finito. Ok, si inizia la partita. Chiamo la pietra e passo. Pesco, chiamo pietra, passo. Insieme turno, pesco, recupero, chiamo pietra. Dopodiché passo per me. Pesco, recupero, chiamo stone. Pago tra, guarda bene le ducate. Iniziamo questo. Poi, pavo, guarda. E il fosso giardotto. Puoi andare. Iniziamo turno, pesco. Pago, scendo, produco un blu. Produco un arco. Abbiamo dovuto l'impressione di Rocky. In risposta, pago un verde. Uno in colore. Faccio un arco. Faccio un arco. Vieni a dire che questi scarti dei counter non vengono. Nice. Recupero. Facciamo pietra. Dopodiché, provo duecenti e produco verde. Produco verde. Andiamo a un cappuccio rosso. Passo e torno. Passo e torno. Recupero. Passo e torno. Passo e torno. Pago altri tre. E il borgaloppio è una carta. Vai, piccamente al basso. Ok, per non sbagliare cosa. Pago uno blu. Crescita massiccia. Viste che è scontato di una perché la gioco da vero una. Sì. E ho tre in pull. Per giocare a carte con il sveglio. Poi pago uno blu. Uno verde. E gioco la mercante buona del dinosauro. Sì. E poi entra Mosasauro. Ok, in risposta alla sua entrata. Sì. Giocherei un lorita producendo verde. Ok, paghi duecento. Sì. E in questa lorita prendo ancora la magia. Pago, produco bianco, verde e faccio counter. Ok. Quindi regata. Entra Mosasauro. Questa è una stona. Non recupero, non recupero anche un tonno. Vado. Uso il coin, producendo lo bianco, ti esiglio a capuccia. Vai pure. Pesco. Siamo dietro. Vai. Pesco. Recupero. Quanto hai dito? 3.4. 1.5. 2.5. Un po' andrò. 1.5. 2.5. Puoi andare? Questo. Archi d'altro. Acciò dietro. una ricetta va bene Scegli di guardare le pietre caccia del tomazzo No Adesso ho intuizionato gli occhi Dopo di che? Ti voglio prendere Sì ascolto Ah Pre-stop, pre-recovering Sì Ultimo effetto di mercy Con un re nero E vuole fare il potere di immortale Sta più che le torci si acuta Vuole negare il potere di immortale Sì Non bene? Eccolo? Eccolo? Eccolo Gioco dalla mano Musa sempre Non sai? Non hai gioco che? Sì Uno Due Tre Non ho ricuprato l'altro Possiamo fare la serie di fotografica Esatto Puoi andare? Riesco? Eccolo 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 Piedra Eccolo partito Che non c'è in Piedra non c'è Piedra non ci muovere il caldo e dopo di che passo il caldo e scopo recupero e dopo di che passo facciamo più e salto quando ti tratta tengo così Ti vedi l'oreccia? L'oreccia di organizzare X-X Dicendo che l'oreccia di organizzare X-X Si chiamano una energia abilità Allora, io l'oreccia Pago quattro, poi dico i quattro verdi E faccio tra quelle progetti di svegliato Sacrifico Mosasauro con corso addizionale E faccio 1500 danni a Rechen più 1500 danni diverti Ok Io aggiungo una cassa dall'almozzo Esatto Poi ha qualche dita Qua c'è l'attacco di Mosasauro Il rosso è gatto E' ciò, non la passa? Si, hai chiestato con una roba Mi dico due Io mi dico tre Già l'amore che mi dici Se stanno insieme a rischiare il mazzo Mi dico da pescare la tibesca Vado? Si Pago 200 Pago 200 Pago blu Per poca scendare vai Ok Pesco Pesco Piedra Pago 200 Provoco blu Per poca scendare vai Poi Pesco Pesco Recupero Facciamo pietra Pago Pago un bel Pago un colore Pago un bel Se penso, produco la guardia, quindi faccio 200 e gioco XX per negare le vocazioni di maggiore, è la, è scogito ma, un confinato, che allo stanno, va rublo, va tirare Io faccio Cristana Siccia, produco 3 in blu, provo il pavo 200 più in colla e faccio la immersa del dinosauro Ok Parte l'abilità, poi quando giocheremo Laurita Laurita entra, mi sposta con guarda e gioco a mia volta Laurita Targhetto 1, 2, 3 Vai fuori Esco Recupero Una pietra Dopodiché Vai Esco Recupero Una pietra Intendente P Simon Pot imply 2, 3, 4 E' un gatto Ecco Un gatto Qualchencio Un gatto va bene pago 200 vorrei fare potere l'immortale farei proiettile sono sacrificato alla mosatara facendo i miei cinque danni sono la lite trigger di potere entra uno o due con le tre stonne recupero chiudo pietra si trovo intuizione di loki a mia volta pago 200 faccio anche io intuizione di loki e le altre si sono preso uno e due ok la mia volta io scato sono maurita ok poi esco recupero evocazione evocazione da memoria evocazione da memoria mi do questa in mano e il resto via ok ok mettiamo pietra sono a 1.500 1.500 100 ok e poi pure esco quando la cosa si recupera mettiamo pietra giochere il nostro gatto va bene va bene va bene rilascimo questa lo dovrebbero vado 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 giochere il nostro gatto va bene va bene va bene dopo di che vai esco nella mia pre-recovery faccio berfi bambino non nego evocazione bene pressionale sono mia pre-recovery pago 200 no tanto sono di vita si mi sono fatto più male io che te Faccio il raggio oceanico sul mio stesso motasauro, muore, pesco due carte, lo recupero, pago 200, giro brunile, risuscitare il motasauro, entra il motasauro, la pentola blu e una verde bianca non recupera Ok, puoi andare? Spesso, recupero, pietra 6-8 Lo recupero due parti? Conta Come avete visto le partite sono date abbastanza a senso unico con Brunile de Mosasauro che chiude abbastanza velocemente Se vi piace il mazzo ditemelo sotto nei commenti e io vi metterò la decklist parlando anche delle varie carte So che comunque ci sono ancora cose da migliorare nei prossimi video però vediamo un po' com'è questo formato dalla visuale dell'altro Se vi piace questo ho quello del video precedente, il formato con la visuale dietro le spalle Così che si vede le mie carte in mano Così mi farete sapere quale dei due formati vi piace di più come format video Vedete questo, ci vediamo al prossimo video Al prossimo video